Perché le donne e gli uomini non possono amare chi vogliono? Perché sono costrette a ricevere insulti anche nel 2020? Perché tutte le volte sono costretti a non fare ciò che si sentono davvero di fare? Ovvero stare con le persone che amano, per mano ovviamente. Perché non possono nemmeno baciarsi? Ok, so che per alcuni potrebbe essere schifoso, potrebbe fare schifo. Ma cosa ve ne importa? La vita è loro. Perché nel 2020 esistono ancora persone che pensano di non ferire le altre? Facendo questo, facendo tutte queste cose. Le parole feriscono. Gli insulti sono pesanti. Ti feriscono ma non fisicamente, ma psicologicamente. No persone omofobe.